La squadra. Intanto il campione di Caldonio è prigioniero della sua quotazione, del suo ingaggio e della sua grandezza. Reggio Calabria lo vuole, una passione non ricambiata. In Giappone e Inghilterra farebbero follie per lui. Io sono convinto perché oramai le porte erano mancate, sono convinto che questa sera sia molto determinato, giocherà con molta voglia. A voglia di partita gioca da seconda punta, davanti a Su Puost. Si accentra, è un cross stavolta. Baggio, finta. Cross è basso, primo palo. Baggio. Le sue spalle appunto, secondo quello che è stato definito modulo alla francese. Song. Si fa vedere Baggio. Porta palla, Song. Ecco Baggio. Due su di lui, cerca il numero Baggio. Arriva a pettia le sue spalle. Niancaa, West, Baggio, accarezza il pallone. Subito in profondità per Su. Desai in vantaggio, ma anche Barthes. Attenzione, Su, Barthes. Trentanovesima presenza in nazionale per lui. Zidane, fermato da Vinter. Baggio, Su, Nakata. Scatta Vinter, ancora il cinese. Baggio, con calma, c'è Niancaa largo. Il lancio invece è in mezzo per Nakata. Niancaa. Ancora Baggio. Si, ci sono Song a destra e Niancaa a sinistra con Kupur, Aldeir e West. Tre difensori centrali. Fa una bella concorrenza. Dovrebbe essere un problema per Treseghe. Baggio, vediamo Baggio. Secondo me lui con i suoi piedi potrebbe anche inventare da solo qualcosa. Eccolo. Troppi palloni. È davanti alla porta, ha cercato il tiro centrale. Non ha voluto angolare palla con la paura di sbagliare. Ha tirato proprio con il timore di sbagliare e ha tirato troppo centrale. Fallo su Baggio intanto. Allora Vinter. Stato Petit su Baggio. Eccolo. Due su di lui, raddoppio di Deschamps, ma c'è Song. Molt attivo il giocatore del Liverpool. Baggio ha tagliato. Tocco per lui. Prova a mettere in mezzo e guadagna calcio d'angolo. Buono lo scatto di Baggio. È buona l'idea di dar palla. Come ha detto ex Marsiglia. Baggio. Tagliato. Vinter mette giù. Baggio. Catà. Poi Vinter. Baggio si infila. Bartels ha capito tutto. Si è decentrato. Baggio. Si fa vedere Dunga. Il contratto con rapidità e velocità è difficile per il resto del mondo. Palla per Baggio. Bella l'idea di West per lui. Ecco qua. Defilato su. Ecco Baggio che lo alimenta. Si fa vedere Vinter. Perde pallone Baggio. Lo recupera. Va a pescare Dunga. Tutti molto tecnici. Nakatai, Baggio su tutti. Su fino ad ora sta giocando. Ecco Baggio. Ed è quella la posizione che secondo me dovrebbe giocare Baggio. Non così avanti. Se fa la prima punta è difficilmente entro. Baggio. Desai lo anticipa. Dunga riparte. Su. Evitato fuorigioco. Si avvicina Baggio. Vediamo se si capiscono stavolta ma c'è Barthes. Barthes. Troppo lungo il lancio di Su. Ne è sbilanciata la Francia stavolta. Baggio. Dunga. Scatta Baggio. Posizione regolare ma il pallone è troppo lungo. Ancora una volta. Barthes. Respira. Nianca. Protocross. Verso Baggio ancora. Prolunga. C'era Bihari. Squadra un po' squilibrata. Dunga. Sempre lui a dirigere le operazioni. Baggio sul fioio fuorigioco. Io Sancholi in mezzo. Chiama palla. Baggio temporeggia. E guadagna calcio d'anno. Avanti anche lui. E Baggio in mezzo. I tre seghe in fase difensiva. Baggio. Mette giù. Buona lì. Pablo Tiama. C'è fuorigioco. Fuorigioco di Baggio. Non troppo evidente. In Francia Paris Saint Germain. Tre giornate però. Ancora zero gol per lui. Baggio fuorigioco ancora. Sta provando a giocare proprio sulla linea Baggio. Scatta Yosanchol. Va incontro Baggio. Cerca il compagno Baggio. Porta spassi il pallone. Prova poi il pallonetto. Baggio. E spiora il gol. Applausi per Baggio. Ha lavorato d'astuzia Roberto Baggio. Ha guardato l'assisi che stava entrando a sinistra. Il portiere Rame si è alzato. E gran tocco vellutato di Baggio. Purtroppo non ha trovato la porta. Ma un colpo da biliardo al suo. Il pallone esce di pochissimo. Baggio cerca il gol. Vuole firmare questo. Vince il tecle di forza. Gereme scatenato. Baggio cerca il numero. Preferisce il tocco a Dunga. Non trova. Zelias Baggio sponda. Yosanchol. Baggio. L'appoggio. Baglia. Sbaglia. Lunghissimo verso Baggio. Palla giù per lui. Tocco morbido. Nale. Fermato. C'è Baggio. Baggio. Perdi. Yosanchol. Un fuorigioco che forse non c'era. Quando la linea difensiva è cambiata con la CG Ferrara e Verlata ecco che si alzano spesso il gioco offensivo è più brillante da parte del resto del mondo. Gereme. Cross e basso. Palla Baggio. Sbirgola un po'. Laz. Baggio mette giù col destro. Prova. C'è una deviazione. Sarà calcio d'angolo. Vuole il gol Baggio. Se l'era preparata bene la palla. Aveva stoppato. Pesacca blu. Venticinquesimo. Da tutto corto l'angolo. Baggio rimane lì pronto al cross. Ad uscire. Rame. Sembrava impossibile da domesticare quel pallone. Baggio. Zona tiro. Preferisce l'1-2 con Yosanchol. Corsa breve come suo solito. Due passi. Baggio. Prova. Ha toccato male. Pallo c'è. Baggio contro Rame. Ricorsa lunga stavolta. Baggio. No sbaglio. 5 a 1. La firma di Baggio. D'altra parte la freddezza è sempre stata la sua grande dote davanti al portiere. Anche questa volta non ha sbagliato. Il velodrome è tutto per lui. Era un po' la grande attrazione. Certo non può essere al meglio Baggio. Ma nessuno può dimenticare i suoi 160 gol in Serie A. Non escludono. Nel primo tempo aveva lasciato a desiderare spesso. Sì. Direi di sì. Baggio. Di nuovo Baggio. Ancora Baggio. Riparte il resto del mondo. Baggio. Scatta Baggio. Baggio. Tiene palla. Buona l'idea per Yosanchol. Rame spazza via. Di nuovo Baggio. Si propone Yosanchol. Baggio. Azione personale. Oblico. Anel Kha che ha cominciato in pratica da titolare all'Europeo ma l'ha finito in panchina. Baggio. Chiede l'1-2. Non si sa mai cosa viene fuori da Mouvalade. Poi Baggio. Baggio cerca il tiro ma Leboeuf si oppone. Baggio ricorre il pallone. Lo mette giù. Stana Mouvalade rapidamente. Baggio. È basso. E intanto Zelias. Fietra il pallone. Baggio fuori gioco. Ancora ha qualcosa da dire a guardaline. Attiva organizzata. Si è mossa bene. Fischio finale. Finisce qui la festa di Marsiglia. La Francia.